Clamoroso colpo di scena per la provincia di Ascoli. A due settimane dalla sua nomina, a seguito della perdita della carica di Sergio Fabiani, Luigi Capriotti non è più presidente dell'ente. Al suo posto infatti subentra il consigliere provinciale folignanese Daniele Tonelli. Era stato proprio lui nelle ultime ore a chiedere una revisione della graduatoria per formare la quale non erano stati conteggiati i voti di lista ottenuti dai vari consiglieri provinciali nell'ultima tornata elettorale, bensì soltanto le preferenze. Erroneamente, visto che dalla prefettura è poi arrivato l'ok per la nomina di Daniele Tonelli a presidente della provincia. Una carica che il consigliere di Folignano ricoprirà fino al prossimo 18 dicembre, quando si tornerà a votare per il rinnovo del consiglio provinciale. Neanche il tempo di assumere il nuovo ruolo però, che per Tonelli arriva la prima grana. Il bilancio della provincia di Ascoli infatti non è stato ancora approvato e c'è il rischio di un commissariamento. Nella seduta del consiglio di mercoledì scorso, in prima convocazione, non era stato raggiunto il numero legale necessario per l'approvazione. La stessa cosa è avvenuta ieri per l'assenza di alcuni consiglieri di minoranza. D'accordo con la prefettura, Tonelli ha deciso di riconvocare il consiglio per il 3 novembre alle 17, quando sarà necessario arrivare al numero minimo di presenti per procedere all'approvazione del bilancio. Altrimenti saranno guai e la provincia non potrà procedere a nessun intervento per il prossimo mese e mezzo, con il rischio del commissariamento, appunto, che è sempre dietro l'angolo.